Ciao Massimo, allora raccontami la tua esperienza dell'upgrade che hai fatto al tuo simulatore e voluto il bus shaker installato per avere prestazioni di guida superiori, raccontami la tua esperienza e le tue sensazioni. Esperienza molto bella, sensazioni particolarmente piacevoli perché è ancora più realistico quindi mi dà la sensazione di essere veramente in pista e di avere un feedback importante sia col corpo, col volante, con tutto e quindi è un'esperienza ancora più realistica di prima. Quindi sei contento della scelta fatta e dell'acquisto fatto? Molto contento, un trap importante. Quindi ti ho suggerito bene, suggeriste la stessa cosa anche ad altri tuoi amici? Mi hai suggerito bene e suggerirei questo investimento perché è ancora più realistico e ancora più divertente. Grazie Massimo, buon divertimento e buon allenamento. Grazie. Grazie a tutti.